Io sono nato in ottobre del 1952, lo posso indicare, dove adesso sorge il bar Zara. Qui c'era un primo grande padiglione, l'abitazione consisteva in 20 metri quadrati, una camera da letto dove c'erano i miei genitori, una cucina e un piccolissimo bagnetto. Con l'andato del tempo sono arrivate altre famiglie e l'opera ha messo a disposizione altri padiglioni e qualche anno dopo ci siamo trasferiti in un padiglione successivo, qui a 100 metri sulla sinistra. La forza della nostra gente è stata stare assieme e dopo di questo la scolarità. I nostri genitori sono stati, in questo senso i miei, ma anche quelli delle famiglie, degli altri ragazzi della mia generazione sono stati inflessibili, la scuola prima di tutto.